Radio ad occhi aperti, programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia. Radio ad occhi aperti, programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia. Sederai del Friuli Venezia Giulia, una giornata particolare quella d'oggi in quanto saremmo collegati durante tutta la trasmissione con la Sederai di Cagliari, quindi il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. Possiamo andare in onda grazie ai tecnici Giampaolo Zucchi a Trieste, a Cagliari Paolo Consolidani. Abbiamo fatto questo collegamento perché lo storico che andrò ora a presentare si trova a Cagliari in quanto vogliamo presentare il suo libro. Il suo libro è dedicato a Eugenio Curiel, Il lungo viaggio contro il fascismo, Odradec editore. Eugenio Curiel, sentirete durante tutta la trasmissione, nasce a Trieste e morirà per mano repubblichina a soli 33 anni. Ma io saluto in studio, come dicevo, a Cagliari, presso la nostra sede, Gianni Fresu, autore del libro che ho di fronte a me. Buongiorno Gianni Fresu. Buongiorno a lei. Grazie di essere arrivato e di essere con noi, di aver trovato tempo perché Gianni Fresu insegna in Brasile, il Dipartimento di Discipline Storiche e Politiche, ci racconterà lui. Ma è uno storico nato a Sassari, Università di Cagliari. Tra le sue pubblicazioni tantissime, io ne cito Il diavolo nell'ampolla, Antonio Gramsci, L'intellettuale e il partito, poi La città del sole, poi Gli strumenti della politica, catalogo della biblioteca di Renzo Laconi a Isara, Cagliari 2007, poi Lenin, lettore di Mars, la prima Bardana, Mordenizzazione e conflitto nella Sardegna dell'Ottocento. Ora dicevamo insegna in Brasile e professore a contratto, da agosto in Brasile praticamente, come ha trovato quel paese? Un grande fermento intellettuale ed anche politico, un ambiente professionale molto stimolante e soprattutto in riferimento ai miei studi che sono su Antonio Gramsci un grande interesse perché nelle principali università pubbliche brasiliane esistono dei centri di ricerca su Antonio Gramsci che è utilizzato per leggere molti aspetti della società brasiliana in diverse discipline, dalla teologia per arrivare alla critica letteraria della storia del Brasile oppure alla pedagogia, all'antropologia, insomma Gramsci è uno degli autori attualmente più studiati e tradotti in Brasile con numerose monografie che escono sistematicamente e con interi corsi di laurea a lui dedicati. E quindi per me è come trovarmi in un negozio di caramelle poter lavorare. Splendido! Dopo che l'89 ha voluto cancellare quasi tutto in Europa e adesso si ritorna a far marcia indietro in qualche modo a capire che non vanno buttate tutte le cose, anzi non va buttato niente, va interpretato. Eugenio Accurie nasce a Trieste l'11 dicembre 1912, verrà ucciso a Milano il 24 febbraio 1945, è un fisico, sarà capo del fronte della gioventù, medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Non vogliamo dimenticare che viene sorpreso in piazzale Baracca da una squadra di militi repubblichini guidati da un delatore e viene barbaramente trucidato, barbaramente ucciso. Quindi nasce a Trieste, la madre è Lucia Limentani, lo zio è Ludovico, docente di filosofia morale. Frequenta qui da noi il Vinci, l'istituto tecnico, poi il liceo Oberdan e poi prosegue invece Gianni Fresu, la sua biografia perché va a studiare, è di origine ebraica, va a studiare per primo a Firenze, vero? Dove ce l'ho zio. Continuiamo con questa biografia Gianni Fresu perché insomma alcune scuole, alcune vie gli sono state dedicate ma poco si sa di questo personaggio perché si è voluto buttare tutto nella diatriba cosa fu la resistenza del 43-45 che è ancora dura a volte, no? Ma è una figura in primo luogo assai peculiare e originale da un punto di vista del percorso formativo, nel senso che lui si laurea da appena 21 anni con una tesi sulla disintegrazione nucleari e inizia a lavorare immediatamente all'università in un ambiente come quello della fisica italiana che in quegli anni aveva delle grandi prospettive, parlo delle grandi intellettualità che in Italia lavoravano in quell'ambito scientifico. E poi al di là di questo Eugenio Curiel si avvicina anche alle discipline storico-filosofiche, in particolare attraverso lo zio, il filosofo Limentani, e ha un percorso quasi accidentato nel senso che ad esempio Curiel arriva all'antifascismo attraverso lo studio dell'antroposofia seneriana che insomma ovviamente per i tempi oggi è parecchio di moda come disciplina pedagogica ma ai tempi non era esattamente diciamo così pane quotidiano per chi si occupava di educazione tanto che stava per abbandonare i suoi studi e dedicarsi appunto all'educazione dei bambini e arriva poi attraverso un percorso ripeto accidentato dovuto al fatto che ovviamente nel contesto del fascismo le letture erano assai episodiche e limitate, la disponibilità dei volumi anche dei classici assai limitata, arriva attraverso la lettura dell'idealismo anche al materialismo storico. Quindi ha un percorso assai peculiare che congiunge due ambiti disciplinari molto distanti tra di loro cioè le discipline umanistiche e quelle fisiche e questo si vede anche nelle memorie che parlano di lui e in particolare delle sue lezioni e della sua capacità divulgativa su materie parecchie o complicate. Certo, Gianni Fresu io la voglio adesso riportare, ricominciare in qualche modo la storia di Eugenio Curiel con delle letture, letture prese sempre dal libro Eugenio Curiel, Il lungo viaggio contro il fascismo, Odradec editore, lo potete ordinare se volete se non lo trovate nelle nostre librerie qui in regione. La faccio ripartire appunto da quel suo approccio alle teorie di Rudolf Josef Lorenz Steiner, quindi steineriano. L'antifascismo in quegli anni come si coniuga appunto con le idee portate avanti dal filosofo esoterista e pedagogista austriaco? Ecco, sentiamo quanto lei ha messo nel libro, dall'antifascismo alla democrazia progressiva, il testo è stato curato da Mario Quaranta e da Frantin, sentiamo l'antifascismo e le teorie di Steiner. L'antifascismo di questi anni, che è una caratteristica di tutto il gruppo steineriano, è nutrito di una profonda opposizione alla società, considerata nel suo aspetto oppressivo verso l'uomo. Di qui una critica a tutte le istituzioni politiche e la raggiunta persuasione di dover iniziare la rigenerazione degli uomini partendo da un impegno che si esplichi nella scuola elementare, che accoglie i bambini che non hanno subito l'influenza delle teorie delle istituzioni elementari. E questo è l'incipit, l'incipit si può dire per quanto riguarda l'approccio steineriano di Curiel. La voce che sentirete durante tutta la trasmissione, miei cari ascoltatori, è quella di Gualtiero Giorgini. Allora, Gianni Fresu si laurea a 21 anni prima del tempo, però il 33-34 sono proprio gli anni di difficoltà, di crescita personale. Vogliamo sentire ancora una lettura e poi la farò intervenire, Fresu, quanto Enzo Modica ha scritto nella vita e l'opera di Curiel. Sentiamolo assieme. Per qualche tempo si rifugiò a Montepulciano, ad insegnare nel locale ginnasio. Rifiutò inoltre di seguire il professor Rossi in una spedizione ad Asmara, organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio dei raggi cosmici. I suoi orientamenti ideologici erano ancora molto confusi. Era in contatto con associazioni di carattere teosofico che si ispiravano alle teorie dello Steiner. Lo interessavano però non tanto gli aspetti speculativi di queste teorie, quanto certe pratiche di autocontrollo, da cui si sarebbe dovuto ricavare un perfetto possesso di se stessi, una grande chiarezza intellettuale e stati d'animo di straordinaria serenità. Gianni Fresu si laurea a 21 anni, disintegrazioni nucleari per mezzo di radiazione penetrante. Va a fare però l'insegnante, va a fare addirittura il maestro. Ci traccia ancora il perché, il motivo? L'abbiamo sentito un po' da queste letture. Insomma, cosa rifiutava, cosa accettava, cosa voleva, come cresce Eugenio Curiel? Su Curiel, diciamo così, sui tormenti di Curiel influiscono un rifiuto degli approcci positivisti che in gran parte della cultura del tempo continuavano ad esercitare la loro influenza e in generale anche il rifiuto degli ambienti culturali che nell'epoca, nel ventennio fascista, dominavano anche il mondo accademico, compreso l'ambito appunto della fisica. E soprattutto il problema che maggiormente angustiava e che poi va a contraddistinguere la sua biografia gli approcci, diciamo così, culturali e il sottofondo culturale dell'imperialismo e del nazionalismo fascista. E quindi la questione dell'educazione dei bambini e quindi di un diverso approccio alla formazione che fosse in contrapposizione all'idea stessa dell'uomo fascista era un tema che lo affascinava particolarmente. E quindi in una fase molto delicata della sua formazione, che era comunque estremamente giovane, Curiel rimane dubbioso su quale strada intraprendere e nonostante le prospettive già delineate di possibilità di carriera accademica, ottiene l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole e per un certo periodo intraprende questa strada. Poi fortunatamente attraverso l'intervento dello zio e del suo vecchio professore, ritorna sui suoi passi e probabilmente la decisione che lo spinge a ricongiungersi con il suo ambito di approfondimento disciplinare scientifico è anche la scoperta del materialismo storico e quindi un diverso modo di concepire anche, come posso dire, la crescita umana con un'idea diversa dello sviluppo delle forze produttive e con tutto ciò che questo comporta anche da un punto di vista scientifico e quindi... Certo. Gianni Fresu non sarà mai un dogmatico però. E allora per ricostruire passo passo, perché questo è importante, siamo qui a Trieste, vogliamo capire questo personaggio anche perché insomma l'abbiamo prodotto, è venuto fuori da questo humus, poi ha ampliato la visuale, ma vogliamo dire, e leggo dal suo testo che esce dalla crisi nel 1934 e grazie al suo professor Bruno Rossi riceve l'incarico di assistente del professore Ernesto Laura e diventa titolare, leggo proprio dal libro, di corsi alla cattedra di meccanica razionale nel 1935, professore incaricato di matematica complementare. Ma c'è una bella brevissima memoria di Ernesto Laura, logico, sono gli anni del fascismo, ma miei cari ascoltatori, per quanto riguarda l'università non andiamo lontano neanche oggi, ascoltiamolo. L'anima sua avvelenata dall'ambiente, misero intellettualmente e moralmente, creato dal regime osannato da tutti gli arrivisti d'Italia, inappagato dalle poche soddisfazioni che poteva dare la ricerca scientifica, fuggiva le scienze per ritrovare nell'ingenuità dell'infanzia un sogno purificatore. E questo era il periodo del travaglio. Adesso continuiamo con la sua biografia e vogliamo parlare in questo caso del gruppo, il famoso gruppo Ravà. Adolfo Ravà sarà un professore, ci sarà un gruppo di giovani, moltissimi anche da questa regione, si coagulano e cosa fanno? Si coagulano e iniziano a discutere, in primo luogo, di filosofia, a partire appunto dalla filosofia di Gentile e di Benedetto Croce, ma arrivano ad affrontare nelle loro interminabili discussioni le questioni sociali del momento, in particolare le enormi contraddizioni che venivano fuori dalla attualità del regime, ossia la distanza tra quel che il regime affermava e quanto concretamente realizzava. E quindi si va a costituire una sorta di piccola fronda che in parte va a costituire la prima cellula comunista di Padova e che ha il merito però di non chiudersi in una dimensione puramente cospirativa o di testimonianza dell'antifascismo, ma decide di fare una strada diversa, molto diversa dall'antifascismo sconfitto dopo l'omicidio Matteotti, che è quella appunto di riprendere i contatti con quelle grandi masse lavoratrici che alla metà degli anni 30 non avevano più nessun legame con il vecchio antifascismo sconfitto. Perché uno degli aspetti importanti da ricordare è che nella metà degli anni 30 il fascismo esercitava un consenso reale nel paese, ossia non era semplicemente l'esercizio monopolistico della forza a determinare la persistenza e la capacità di azione del regime. Il regime aveva un consenso interno nel paese, anche tra le masse lavoratrici e esterno. In quegli anni il Duce era considerato dalle cancellerie occidentali un uomo dell'equilibrio, l'uomo della mediazione, la stessa Santa Sede lo definiva l'uomo della providenza. E quindi in questo contesto questi giovani decidono che anziché, ripeto, dar corso ad un approccio settario, cospirativo e di testimonianza che affermava se stesso semplicemente in antitesi alla stragrande maggioranza degli italiani, anime perse del fascismo, Curiel in particolare intraprende una strada che è quella di legarsi al mondo del lavoro e quindi all'interno della rivista con la quale collabora della gioventù universitaria fascista, si occupa di questioni sindacali e decide insieme ai suoi compagni di discussione e poi di lotta di entrare nelle organizzazioni di massa del regime in modo tale da intraprendere un percorso di conoscenza delle basi sociali del regime per svuotarlo e eroderlo progressivamente, molecolarmente, di un consenso che secondo Curiel sin dall'inizio non era reale, nel senso che per Curiel, al di là del consenso di facciata, sotto la cenere covava una braccia nel paese e in particolare covavano delle contraddizioni tra il mondo del lavoro e il regime fascista. Quindi è un lavoro di immersione nella realtà fascista e viene fatta anche ovviamente in maniera molto intelligente, nel senso che non erano ammissibili possibilità di dissenso in quegli anni e quindi si lavora all'interno di un giornale fascista, all'interno delle organizzazioni sindacali fasciste facendo emergere progressivamente quelle contraddizioni e cercando quel contatto col mondo del lavoro che, ripeto, l'antifascismo sconfitto non aveva più nel paese. Questa è una chiave di volta importante nella storia del fascismo. Abbiamo detto il giornale sarà quello universitario, il BOP. Io voglio ribadire, per completezza di informazione, che il gruppo che si riuniva nelle stanze dell'Istituto di Filosofia del Diritto di Adolfo Ravà era, dove c'è ancora il portacenere, dove tante sigarette sono state spente da questi ragazzi, era composto da Atto Brown, e chi era Atto Brown, miei cari ascoltatori, era figlio di Giacomo Brown, che nasce a Trieste nel 1876, avrà ancora una sorella, Adolfina, che sarà una importantissima glottologa, l'ingegner Atto Brown, figlio di Giacomo Brown, che lavorerà all'archivio diplomatico del Comune, su proposta di Attilio Ortis, e nel 1922 vinse il concorso per direttore della Biblioteca Civica, e rimase in servizio sino al 1942, quando morirà. Quindi anche una storia tristina, quella dell'ingegner Atto Brown e della sorella. Poi assieme a loro ci sarà Renato Mieli, padre giovane ebreo, originario di Alessandria d'Egitto, padre del Mieli giornalista d'oggi. Poi ci sarà Enrico Opocher, sarà di Treviso, se non sbaglio, e poi Fiorentino e altri personaggi molto importanti che faranno, appunto, formeranno questa prima cellula comunista. Ma io voglio far sentire ancora la testimonianza, sempre letta da Gualtiero Giorgini, del professor Laura, sull'eloquio di Eugenio Cure. Per quanto avesse l'eloquio non molto sciolto, si guadagnò subito l'affetto e la simpatia degli allievi e dei docenti, sia per la sua bontà, che sembrava sprizzare a scatti come la luce del suo occhio miope, sia per la sua cultura varia, profonda, rifuggente del particolare problema e sempre tendente alla visione in grande del fenomeno. La visione in grande del fenomeno, dice il professor Ernesto Laura. C'è una prima dispersione del gruppo. Renato Mieli va via e c'è una lettera, una lettera che lei ha messo dentro. La prima lettera è quella del 10 gennaio 1936. Renato Mieli torna in Egitto e sentiamo che cosa scrive Curiel a Mieli in quel 1936. Ricordo con profonda nostalgia le nostre amate discussioni e il nostro fervido consenso spirituale. Ricordo i magnifici programmi che tracciamo una sera nelle belle sale del Caffè Quadri, programmi che adesso sarebbero effettuali se ora, oltre all'amicizia, ci unisse anche la vicinanza. Ed è talvolta in questo ricordo che io mi rifugio quando maggiormente stanco ed avvilito dalle ripetute delusioni sento risorgere il dissidio tra la mia ardente brama di azione e la desolante aridità della gente che mi circonda. E ripenso come pugnace e completo sarebbe il nostro gruppo se voi tornaste ad aggiungervi. Siamo andati a Padova con la testimonianza di questa lettera. Renato Mieli se ne va. Lui rimane. Parliamo ancora un po' del BODI. questo giornale universitario perché è un'università importante. Trieste non ha l'università. I nostri, Giuliani, Striani, Dalmati, confluiscono a Padova. E quindi il BOE è un giornale però loro importante. Inizia la collaborazione e poi ne prenderà le redini, Fresu. Sì, di fatto sì. Tanto è vero che anche dopo l'emanazione delle leggi razziali quando di fatto viene allontanato dall'università per un periodo gli si chiede ancora di collaborare ovviamente senza poter mettere la firma perché, diciamo così, la forma che aveva dato al giornale e il tipo di dibattito che era riuscito a suscitare costituiva un punto di forza di quel giornale ma soprattutto riuscì a far presa anche su una parte di giovani che inizialmente aderirono entusiasticamente e ingenuamente al regime perché uno degli punti più interessanti secondo me della biografia di Curiel è che lui è un po' un punto di riferimento di quella che Zangrandi aveva definito la generazione degli anni difficili o la generazione degli anni di mezzo ossia quei giovani cresciuti a pane e fascismo durante il regime che non avevano neanche un ricordo di cosa era stato il dibattito politico filosofico e culturale prefascista e che dunque non avevano nessun legame neanche fisico con il vecchio antifascismo e questa era una delle grandi vittorie di Mussolini rispetto a loro ma che contemporaneamente iniziano a distaccarsi progressivamente dal regime perché molti di questi aderiscono al regime ed è una generazione che è composta da alcuni dei più bei nomi della cultura italiana del dopoguerra come Treccani Gottuso Bruno Zevi Vittorini Lattuada Ponte Corvo collaboratore stretto negli anni della resistenza di Curiel Natoli Alicata insomma una generazione di grandissimo spessore che si va a formare nel regime e addirittura all'interno della vetrina ufficiale dei giovani del regime cioè i cosiddetti litoriali della cultura che progressivamente vanno a costituire una fronda che inizia a distaccarsi fino a arruolarsi nel vero senso della parola nelle organizzazioni antifasciste e Curiel è per loro un punto di riferimento perché perché Curiel è forse tra questi la figura che più rapidamente fa la sua scelta antifascista già dagli anni liceali e perché Curiel cerca disperatamente un contatto con gli antifascisti esuli e sconfitti all'estero in particolare con il centro estero del partito comunista d'Italia a Parigi e quindi il dato importante è che questi giovani sono isolati generazionalmente da un lato non si riconoscono nel regime dall'altra si trovano di fronte a un antifascismo sconfitto anche per i suoi errori e però anziché dare una risposta generazionale passatemi questo brutto termine trovare una risposta nella rottamazione generazionale loro puntano sulla creazione di una saldatura organica con il vecchio antifascismo organico e questa è la base dei futuri comitati di liberazione nazionale cioè la spina dorsale della lotta di liberazione nazionale sta in questa esperienza generazionale fantastica che costituisce uno degli elementi più interessanti della storia dell'antifascismo in Italia e che però cosa interessante si verifica negli anni in cui il regime esercitava il suo consenso massimo nel paese cioè gli anni della edificazione dell'impero e gli anni in cui come dicevo prima Mussolini aveva un consenso pieno dentro e fuori il paese importante quello che ha detto non la rottomazione ma la saldatura tra la vecchia guardia antifascista di lungo percorso non dimentichiamo tutti gli operai che avevano fatto l'esilio e il confino eccetera eccetera e i giovani mentre quando c'è una cesura totale non esiste un passato inventarsi un presente quasi impossibile come succede a noi allora vediamo ancora Enrico Oppo che studia giurisprudenza a Padua con Adolfo Euravà e il suo ricordo di Eugenio Curiel Curiel era uno studioso introverso e a modo suo timido non gli riusciva il contatto con ambienti diversi da quello universitario e perciò la consuetudine con Lucini ed il suo ambiente gli fu preziosissima e con lui Lucini e qualche altro amico usciva tutte le sere sotto quei portici bui della vecchia Padova eternati dai quadri di Zancanaro a cena frequentava le osterie dove poteva incontrare qualche operaio e con loro discuteva buona parte della notte informandosi sulle condizioni di vita del proletariato fu un bagno di socialità concreta dove poteva finalmente incarnare le proprie teorie e in un certo modo verificare la validità delle tesi marxiste l'incontro con Ettore Lucini Ettore Lucini ne ha dato testimonianza anche in una lettera in un scritto che è stato ristampato su rinascita e dice appunto la testimonianza che mi è stata chiesta come ad un amico che visse tra il 35 e il 38 assai vicino a Curiel è necessariamente modesta cosa apprezza Ettore Lucini adesso mi dirà lei che è Ettore Lucini ma in Curiel apprezzai innanzitutto una dote che è tra le più difficili a trovare la capacità cioè di accettare totalmente la personalità del suo interlocutore nella maniera più schietta lontana da ogni sufficienza da ogni giudizio preconcetto sì che tutto quello che per me era importante lo diventava anche per lui importantissima questa testimonianza di Ettore Lucini e chi era? Ettore Lucini era diciamo così l'anima del bo nel senso che era di fatto il direttore colui che dirigeva questo giornale che inizialmente fu accolto con un po' di diffidenza dal gruppo dalla cellula che stava attorno a Curiel perché lo si vedeva troppo coinvolto con il regime e troppo organico al regime nella realtà Curiel seppe intuire da subito quanto dietro quell'adesione ci fosse lo stesso approccio problematico che avevano questi giovani e quindi la capacità di Curiel è stata quella di coinvolgerlo in una discussione più ampia e progressivamente portarlo sul versante antifascista insieme a questi giovani e forse è questo l'aspetto secondo me più interessante in questi anni della biografia di Curiel il vecchio antifascismo aveva un approccio moralistico come accennavo prima in particolare nello stesso mondo comunista che negli anni precedenti tra il 28 e il 30 era stato travolto dalla teoria nefasta del social fascismo ossia l'idea che tra democrazia e fascismo non c'è nessuna gradazione di differenza e che il social democratico è il nemico peggiore dei comunisti e non i fascisti un approccio settario come dicevo che di fatto rinchiuse l'antifascismo in una cerchia molto limitata e ininfluente per la società Curiel aveva un approccio diverso perché a suo modo di vedere il regime esercitava un consenso questo significava che per poter svuotare il regime di quel consenso bisognava aprirsi a quella società e discutere con quella società disponendosi da un punto di vista politico e anche umano nella migliore delle condizioni possibili per comprendere e conquistare genomicamente la società il rapporto con Lucini si iscrive totalmente in questa dinamica e in ciò sta una delle vittorie importanti di Curiel e Nitorno di quel gruppo perché tra gli altri ad esempio Mieli e anche gli altri Browne o Poker come posso dire loro avevano quasi una esigenza immediata di azione una immediata esigenza di azione di testimonianza anche del proprio antifascismo invece Curiel seppe frenare anche certe esigenze di azione immediata facendo comprendere a questi quanto l'azione interna agli organismi di massa del regime fosse importante per un'inversione di tendenza e lì infatti furono costruiti quei legami certo questo è importante allora io vorrei far sentire ancora la testimonianza di Ambrogio Donini che ospitò Curiel quando nel 37 se non sbaglio raggiunse Parigi ed era il centro estero comunista dove incontra tra l'altro poi Emilio Sereni Ambrogio Donini come dicevamo Ruggero Grieco insomma la testimonianza di Ambrogio Donini su questo ospite che arriva dell'Italia loro sono lì a Parigi da tempo sentiamo non potrò mai dimenticare le lunghe affascinanti discussioni che si svolgevano con Curiel a casa mia nella semilegalità parigina o in qualche isolato caffè in periferia con l'intervento di Griego e la freschezza del contributo portato da Eugenio dall'Italia all'elaborazione della nostra linea politica Curiel ci appariva come l'esempio concreto della giustezza del nostro lavoro di penetrazione nelle organizzazioni legali di massa sindacali e studentesche del regime fascista per strappargli il cuore e la mano della gioventù nelle fabbriche e nelle scuole con noi egli discusse l'impostazione da dare agli articoli e alle rassegne che egli veniva pubblicando tra il 1937 e l'estate del 1938 sulla rivista Il Bo organo del gruppo universitario fascista dell'Ateneo Patavino e questo è quasi un momento di consolazione per il gruppo degli antifascisti che stanno a Parigi testimonianza di Ambrogio Donini ma la saldo subito questa testimonianza a quella di Renato Mieli che ricorda il rientro di Eugenio Curiel da Parigi e le proposte che fa Curiel a questo gruppo il gruppo Rava il gruppo di antifascisti di giovani comunisti che fonderanno la prima cellula lì a Padova ascoltiamo Renato Mieli ci spiego anzitutto il carattere di classe della dittatura fascista come avremmo potuto un giorno liberarcene se non avessimo prima capito quali erano le energie reali capaci di abbattere il fascismo nel nostro paese e se non fossimo riusciti poi ad organizzarle questa forza liberatrice non è racchiusa in una elite di intellettuali essa è nella classe operaia e nelle sue alleanze con le masse delle campagne e con quella parte di borghesia progressiva chi vuole la liberazione dal fascismo deve incominciare col volere la liberazione di tutte queste forze dai vincoli che le soffocano esistono delle profonde contraddizioni che il regime di Mussolini non può assolutamente risolvere si tratta di non restare al di fuori di un processo storico e di inserirsi al contrario attivamente per far fermentare dall'interno quelle energie che affretteranno la disfatta dei nemici del popolo Gianni Fresu così ricorda il rientro da Parigi di Eugenio Curie e Renato Mieli lo commentiamo assieme? Sì in particolare io credo che le ultime tre righe le ultime parole della lettera delle memorie di Mieli sono importanti e cioè non stare al di fuori di un processo storico e inserirvisi questo era il tema fondamentale che viene introdotto da Curie in particolare da quella generazione perché questi giovani nei loro contatti con i centri esteri riescono ad aprire gli occhi a quel vecchio antifascismo spingendolo in primo luogo a comprendere le contraddizioni che esistevano dentro il regime stesso e nella sua base sociale ma soprattutto a superare quell'approccio settario che aveva contraddistinto l'esistenza dell'antifascismo attraverso le lotte le divisioni che avevano riforzato il fascismo la svolta che porta alla linea dell'unità delle forze democratiche contro il fascismo è accompagnata e favorita proprio dai resoconti e dai rapporti che questi giovani portano alle organizzazioni e ai centri esteri dei partiti antifascisti all'estero in un contesto nel quale soltanto il partito comunista aveva una struttura ancora organizzata nel paese composta di 3.000 aderenti ma che ciclicamente di mese in mese veniva rasa al suolo dall'efficientissima pulizia politica di Bocchini quindi questo tema di inserirsi nel processo storico e quindi tirar fuori quelle contraddizioni è un tema centrale che come ripeto spiega bene il ruolo e la figura di Eugenio Curiel in particolare spiega la sua capacità di inserirsi in quel contesto culturale elevatissimo che erano i litoriali della cultura in cui si formò quella generazione con quei nomi di cui ho parlato prima giovani che in gran parte aderirono ingenuamente alla retorica rivoluzionaria del fascismo che si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo e che si presentava come esperienza da un punto di vista sociale più rivoluzionaria dell'unione sovietica stessa ma che ripeto attraverso una discussione carsica inizia a trasformare quelli che dovevano essere il fiore all'occhiello del regime cioè l'uomo nuovo fascista le nuove leve che non contaminate dalla filosofia marxista dal pensiero liberale o dalle vecchie teorie politico sociali prevalenti nel paese potessero incarnare le esigenze di grandezza imperiale del paese certamente Gianni Fresu la interrompo perché ha nominato lei giovane ha nominato lei i littoriali allora andiamo a sentire appunto i littoriali del 1937 il suo parele vi partecipa come dirigente del GUF sentiamo perché noi comunisti ci interessiamo tanto dei littoriali noi sappiamo che non è da essi e tanto meno dal fascismo che la gioventù intellettuale italiana può sperare di uscire dalla situazione grave in cui versa ma sappiamo che la parte migliore della gioventù universitaria fascista compie uno sforzo notevole per farsi largo e contribuire alla soluzione dei problemi più vitali interessanti tutto il popolo italiano questi giovani di reale valore e capacità che vogliono realizzare una più alta giustizia sociale e chiedono una maggiore libertà di parola ci interessano oggi come esponenti di una corrente viva e fresca di energie e questa era la partecipazione di Eugenio Curiel ai litoriali del 1937 le sue considerazioni di avvicinamento a queste classi e generazioni giovani e ancora una brevissima lettura sempre Eugenio Curiel classe e generazioni il suo pensiero sui giovani si tratta si tratta generalmente di agire su individui giovanilmente entusiasti in cui permangono esigenze ideologiche che il fascismo generalmente non soddisfa con essi è perciò necessario destreggiare appoggiandosi a tutte queste represse esigenze ideologiche decidendo caso per caso quale possa essere l'elemento più atto a penetrarne con vivezza nella loro psicologia generalmente tormentata Gianni Fresio era quanto aveva detto poco prima nei rapporti con i giovani io volevo adesso aprire un capitolo a cui lei aveva già accennato il capitolo riguarda appunto i sindacati sappiamo delle agitazioni ma me le ricorderà anche lei dell'olio del 37 i sindacati il lavoro dei sindacati il sorvegliante cottimista e poi i quadri dei sindacati insomma curie la parola d'ordine per i comunisti e in più in generale per gli antifascisti è la seguente sentiamo prima il brano e poi me lo commenta il nostro scopo è allora accentuare questa nuova posizione e cioè avvicinare quanto è possibile l'operaio al sindacato determinando il ristabilimento del naturale rapporto di classe fra esso e il fiduciario si rende perciò necessaria una duplice azione di fronte ai sindacati la quale si può caratterizzare attraverso i seguenti punti 1 pressione sull'elemento operaio affinché esso impari a superare la naturale diffidenza di fronte ai sindacati 2 pressione sull'elemento borghese che viene chiamato a funzioni sindacali colmare la distanza tra operaio e dirigente significa ristabilire l'unità di classe infatti attraverso un contatto sincero tra fiduciario ed operaio difficilmente il primo potrà dimenticare gli interessi della classe cui appartiene e più duro sarà il compito del capitalista di asservirlo ai suoi interessi eccoci Gianni Freso è splendido questo brano per quanto riguarda appunto cosa si deve saldare chi con chi cioè non azzerare ma appunto lavorare per il ristabilimento del naturale rapporto di classe fra esso l'operaio al sindacato e il fiduciario sì all'interno di questa dinamica curia l'individuo alcune contraddizioni fondamentali la prima è quella che riguarda strutturamente il regime una contraddizione che si va a determinare tra sindacato e partito nella edificazione del regime corporativo l'altra è la contraddizione di classe esistente tra i dirigenti del sindacato che in genere provengono dalle classi borghesi che non fanno una trafila diciamo così a partire dal concreto del mondo produttivo e del mondo del lavoro ma che vengono sovrapposti come un'escrescenza al movimento operaio appunto come una guida politica che ha come funzione Gramsci dice la funzione del corporativismo essenzialmente di pulizia politica cioè evitare un'autonoma soggettività del mondo del lavoro è un tema che è molto presente in Gramsci e quindi per Curiel inserirsi in queste contraddizioni significa appunto rinsaldare quella unità di classe che invece il corporativismo intendeva frammentare per rendere il mondo del lavoro semplicemente un supplemento coreografico alle esigenze del regime è un lavoro estremamente penetrante che produce i suoi effetti già negli anni 30 ma va anche ricordato che momenti di manifestazione dell'autonoma soggettività del mondo del lavoro c'erano stati anche prima agli inizi degli anni 30 dopo l'esperimento e diciamo così l'operazione quota 90 di Mussolini si sviluppò un grande movimento delle mondine del vercellese che paralizzò la produzione agricola nel nord Italia in particolare del riso ma in generale lotte sociali episodiche vengono fuori nel corso degli anni 30 e questo perché si punta sulle singole lotte economiche e anche sulle lotte contrattuali ossia migliorare le condizioni economico-sociali del mondo del lavoro le condizioni economiche contrattuali e di vita dei lavoratori erano uno strumento per ricostruire una coscienza sociale delle classi lavoratrici e per curia il quale era il primo elemento per costruire una cultura antifascista nel paese da questo lavoro si spiega la grande esperienza che porta nel marzo del 43 alla paralisi industriale del nord che blocca la produzione bellica e che è la prima grande crepa strutturale del regime fascista ben prima dello sbarco degli alleati e ben prima della famosa riunione del Gran Consiglio del Fascismo in cui Mussolini viene defenestrato è un investimento che viene fatto nel mondo del lavoro dalla metà degli anni 30 e che produce i suoi risultati nel lungo periodo e sono risultati assai importanti per la storia d'Italia Gianni Fresu c'è però un momento in cui questi giovani il gruppo Rava questi giovani della cellula comunista di Padova dell'università di Padova che lavorano nel giornale Il Bo si sentono isolati allora vogliamo sentire le parole del suo caporedattore che viene poi rimosso ed è tutto un programma il suo nome si chiama Esule Sella vero se non sbaglio Esule addirittura quando dice che sarebbe bastato così poco ai giovani per capire da aver vicino la generazione dei padri ascoltiamo alla sensibilità e all'ansia dei giovani sarebbero bastate poche osservazioni la segnalazione di un libro il ricordo di un nome la testimonianza di non lontani avvenimenti come e perché era sorto il fascismo un richiamo esperto in termini di cultura e di politica invece no leggevano il Bo lo davano i nostri articoli si abbonavano a quello strano giornale di giovani che era il nostro magari ci agevolavano sostenendo il nostro sforzo organizzativo con la pubblicità ma non si mossero per aiutarci e dobbiamo ricordare i miei cari ascoltatori che siamo in collegamento con la sede RAI di Sassari Gianni Fresu il nostro storico Paolo Consolidani il tecnico che ci permette assieme a Gianpaolo Zucchi della nostra sede del Friuli Venezia Giulia di Trieste di andare in onda e parliamo di Eugenio Currie Il lungo viaggio contro il fascismo Gianni Fresu Odradec editore Gianni Fresu si sentono isolati ugualmente si sentono soli perché sono cresciuti isolati da tutti sono cresciuti come aveva detto bene lei nel massimo della dittatura fascista sì e questo ripeto lo accennavo già prima è uno dei grandi risultati di Mussolini risultati voluti non casuali nel senso che per Mussolini l'uomo nuovo andava costruito interrompendo qualsiasi legame fisico ideologico e culturale con quello che era stato l'Italia prefascista e quindi questi giovani si trovano isolati da tutti i punti di vista perché non hanno gli strumenti culturali riviste dibattiti libri di cui nutrirsi per formarsi politicamente e questo spiega anche i percorsi accidentati e spesso contradditori di questi giovani mentre la vecchia generazione degli antifascisti pensiamo al gruppo dirigente del partito comunista aveva una formazione classica per dei marxisti attraverso letture dibattiti e lotte sindacali questi giovani non conoscevano nulla di tutto questo e quindi erano isolati per un verso nei confronti del regime del quale non si riconoscevano ma anche nei confronti di quell'antifascismo che non si manifestava questo spiega anche perché molti di questi giovani aderirono al partito comunista perché il partito comunista d'Italia in quel periodo era la sola organizzazione presente nel paese e quindi c'era anche un certo fascino per la capacità di resistere clandestinamente nonostante l'avversità del contesto una cosa che Aldo Tortorella ha spiegato molto bene nell'intervista che mi ha concesso all'interno del volume lui dice chiaramente io sono diventato comunista perché nel mio territorio c'erano solo loro e quindi ripeto questo isolamento assoluto spiega anche l'originalità delle pubblicazioni che attorno a questi giovani si sviluppano non soltanto il Bo penso a una rivista come Corrente e penso più in generale al dibattito culturale che riguarda un'elite perché va ricordato che stiamo parlando di giovani che comunque vengono dalle classi medio-alte della società italiana ma che ripeto costituiranno prima la spina dorsale della lotta di liberazione nazionale e soprattutto nel dopoguerra costituiranno le elite culturali di questo paese cioè quelle che saranno incaricate di ricostruire non solo la memoria ma anche i fondamenti culturali più profondi di un paese devastato dal fascismo e quindi è una sorta di piccolo miracolo che Zangrandi ha ben analizzato in un libro che si intitola non a caso il lungo viaggio attraverso il fascismo il sottotitolo del mio libro è un riferimento diretto a quello di Zangrandi la differenza è che Zangrandi da giovane aderì al fascismo Curiel no la scelta di Curiel è sempre stata contro il fascismo e non attraverso però è il medesimo percorso generazionale e io voglio ribadire quanto ha scritto Gianni Fresu che state sentendo studiare Curiel per comprendere meglio le origini della nostra democrazia repubblicana e il travaglio umano che la generò questo è miei cari ascoltatori e questo vuole essere la nostra trasmissione grazie al lavoro di ricerca preziosissimo del nostro ospite Gianni Fresu ha nominato lei Gianni Fresu Aldo Tortorella la preziosa testimonianza del perché si aderisce al comunismo e noi l'abbiamo fatta leggere allora sempre per la voce di Gualtiero Giorgini ascoltiamo la testimonianza che Aldo Tortorella importante esponente del comunismo italiano ha dato al nostro autore Gianni Fresu perché io stesso sono diventato comunista perché tu giovane che volevi batterti contro il fascismo incontravi per primi e essenzialmente loro i comunisti ti ho detto del mio primo contatto con il giovane professore supplente al liceo Mario De Micheli lui come tanti artisti scrittori intellettuali uomini di cultura di grandissimo valore si sapeva che erano comunisti si guardava Guernica di Picasso si leggeva Aragon ed Eluard dopo aver letto il tallone di ferro di Jake London o Furore di Steinbeck c'era se non un'egemonia un clima dopo la grande crisi e con la guerra che ispirava il bisogno di cambiamenti radicali il partito comunista italiano era già una realtà organizzata non solo tra gli intellettuali ma nelle fabbriche non era un partito per gli operai ma degli operai gli scioperi del 43 miracolo unicamente italiano di organizzazione clandestina di cui furono indubbiamente organizzatori e protagonisti i lavoratori e i dirigenti comunisti naturalmente in un quadro unitario esprimono bene la funzione del PCI in quella fase storica ti faccio un altro esempio personale il 26 luglio del 43 dopo la caduta di Mussolini torno al mattino a Milano dal paese dove la mia famiglia era sfollata esco sul piazzale della stazione nord i tram sono fermi e sul tetto di uno di essi un tramviere arringa la piccola folla sento quel che dice si capisce che è un comunista certo c'era nell'immaginario collettivo il peso di Stalingrado la forza dell'Unione Sovietica che ricacciava indietro la Germania nazista infliggendole delle sonore sconfitte militari però senza la presenza in carne e ossa dei comunisti italiani senza la loro capacità di entrare in sintonia con le masse popolari e senza la loro politica unitaria pensa solo alla svolta di Salerno la resistenza non avrebbe potuto svilupparsi come si sviluppò concretamente e questa è la preziosa testimonianza di Aldo Tortorella rilasciata l'intervista rilasciata a Gianni Fresu immessa nel suo libro Eugenio Curi il lungo viaggio verso il fascismo Odredec editore Gianni Fresu a questo punto dobbiamo parlare del partito comunista italiano e del partito socialista italiano come vuole coagulare le forze Curi eleva un approccio che era naturalmente unitario Cervetti in un'altra intervista sempre all'interno del volume la definisce fusionista nel senso che sul rapporto che Curi l'ha avuto con i socialisti sono girate un po' di leggende anche alcune cattiverie biografiche nel senso che per alcuni era una sorta di doppio gioco in realtà per Curiel il rapporto tra socialisti e comunisti nell'antifascismo doveva essere assolutamente organico e quindi non era una esigenza tattica o non intendeva essere lui stesso un cavallo di troia all'interno dell'organizzazione socialista ma a partire da quell'esigenza che lui aveva sentito immediatamente nella sua giovane età dell'unità delle forze antifasciste e queste due organizzazioni del movimento dei lavoratori dovevano cementarsi attraverso la lotta questa è un'esigenza che Curiel sente prima ancora che si vada a formare in maniera netta e chiara quel patto di unità d'azione che poi segnerà l'attività dei socialisti e dei comunisti nel corso della resistenza e ancora prima negli anni bui del regime della fine degli anni trenta in un clima europeo che era sicuramente segnato dall'esito tragico della guerra civile di Spagna e prima ancora dall'emergere dell'esperienza storica dei fronti popolari però il punto è che bisogna ricordarsi l'ho detto prima che pochi anni prima il movimento comunista aveva scelto un'altra strada che era quella dell'isolamento e anzi della lotta contro i socialdemocratici anche in un clima come quello segnato dall'emergere dei fascismi a livello europeo questa svolta che si determina tra il trentaquattro e il trentacinque che porta ai fronti popolari e alla politica dell'unità delle forze democratiche contro il fascismo è una politica che ha i comunisti italiani tra i protagonisti perché si dà una rappresentazione estremamente sommaria di una figura come Palmiro Togliatti in realtà nel congresso dell'internazionale comunista che segna questa svolta radicale il vero protagonista quasi più anche di Dimitrov nell'intraprendere questa posizione è Palmiro Togliatti e sulla posizione dei comunisti italiani che non erano pienamente allineati alla posizione del social fascismo influiscono tante cose che ho provato a ricostruire nel capitolo centrale del volume prima l'eredità dell'elaborazione teorica di Gramsci a partire dalle tesi di Lione che hanno immanenti una concezione molto più complessa del fascismo e della società italiana quindi l'esperienza specifica dei comunisti italiani di fronte al fascismo e in ultima analisi certo in dimensioni ridotte ma comunque importanti l'esperienza diretta che questi giovani fanno e l'esigenza che questi giovani pongono dell'unità delle forze antifasciste quindi del superamento di quell'approccio settario e in questo i comunisti italiani parlo ovviamente di loro sono stati protagonisti di una pagina storica importante che in questi ultimi anni è diciamo così o accantonata o completamente distorta in questi anni si parla un po' di Togliatti come una marionetta nelle mani di Stalin la realtà io ho provato a spiegarlo anche attraverso i documenti che ho riportato nel capitolo centrale la storia dei comunisti italiani è stata una storia differente e se appunto quella svolta a livello europeo si è determinata un piccolo merito ce l'hanno anche loro e tra essi anche Eugenio Curiel subentrano leggi razziali lui deve nel 38 lui deve poi lasciare il BOC che dirige in quel periodo il giornale degli universitari di Padova se ne va ma poi viene arrestato a Trieste il 24 giugno del 1939 viene condannato il 13 gennaio del 1940 a 5 anni di confino va a finire a San Vittore poi a Gaeta e poi a Ventotene e viene a incontrare le persone più belle dell'antifascismo italiano di quello rimasto appunto e confinato all'isola sì io ritengo che in quegli anni Ventotene fosse un po' una sorta di università di antifascismo e Curiel entra in contatto appunto con Secchia con Longo ma anche con altre figure esterne al movimento comunista lì c'erano anche Pertini Spinelli e tante altre belle intellettualità e belle figure politiche dell'antifascismo italiano il Frausin che sarà poi ucciso diventerà amico dell'operario Frausin della nostra regione che verrà poi barbaramente ucciso farà parte del comitato di liberazione uno dei suoi punti di riferimento uno dei suoi contatti più diretti e quotidiani nella vita di tutti i giorni lì nel confino e allora Gianni Freso apriamo una finestra su questa figura su Luigi Frausin che era nato a Muge il 21 giugno 1898 e venne ucciso dai tedeschi a Trieste nel settembre del 1914 1844 era un carpentiere diventa dirigente comunista riceverà la medaglia d'oro al valor militare alla memoria però aveva aderito giovanissimo Luigi Frausin alla gioventù socialista e diventa anche uno dei dirigenti di questa gioventù partecipa alle lotte degli operai del cantiere San Rocco e va a dirigere il movimento operaio anche a Mo Falcone nel 21 fu tra i fondatori del partito comunista nella Venezia Giulia e si oppose allo squadrismo fascista viene licenziato per appresaglia dai cantieri navali e espatriò il 27 partecipa alla rivolta operaia di Viena e nel 28 in Ussemburgo lavora nelle miniere anche lì si organizza e protesta organizza soprattutto gli operai italiani gli emigrati dal 1929 diventa membro dell'apparato comunista italiano all'estero e quindi fa la spola con l'Italia per organizzare il movimento clandestino soprattutto a Trieste e in Slovenia fa parte del comitato centrale del partito comunista italiano nel 1930 e viene arrestato una prima volta dalla polizia italiana nel 32 in 20 settembre 1933 è condannato a 12 anni di reclusione uscirà dal carcere per l'amnestia come succede a tantissimi prigionieri nel 1937 ma soltanto per essere avviato poi al confino all'Iperi a Ventotene e proprio a Ventotene come abbiamo sentito incontrerà Eugenio Cure abbiamo chiesto al professor Roberto Spazzali che voi tutti conoscete i miei cari ascoltatori perché è uno storico che si è occupato con estrema rigorosità diciamo del problema delle foibe tantissimi anni fa ora si occupa dei vari problemi del confine orientale d'Italia è comandato presso l'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia e a Roberto Spazzali abbiamo chiesto appunto di parlarci di più di Luigi Frausin ascoltiamolo assieme Luigi Frausin certamente forse una delle figure più autorevoli del panorama dell'antifascismo giuliano e mugesano in modo particolare perché Frausin era di Muccia diciamo attivista e dirigente del Partito Comunista all'epoca Partito Comunista d'Italia come si definiva in quel tempo già negli anni 20 e 30 e per questo anche perseguitato dalla polizia fascista il fatto è questo che c'era enorme difficoltà nel reorganizzare le masse come si diceva in quel tempo e lui aveva il compito sostanzialmente di tirare un po' le fila di quello che era rimasto del Partito Comunista nella Venezia Giulia con enormi difficoltà anche perché negli anni 30 erano subentrati degli accordi per cui diciamo quelle organizzazioni del partito che risultavano minoritarie sul territorio non organizzate dovevano appoggiarsi alle strutture meglio organizzate e più importanti e in questo senso facevano capo al Partito Comunista sloveno questo soprattutto negli anni dell'occupazione tedesca Luigi Frausin ha un ruolo molto importante nella riorganizzazione e ricostituzione del Comitato di Liberazione Nazionale nella primavera estate del 1944 quel primo Comitato di Liberazione Nazionale che era nato in verità come un comitato per la salvaguardia e la difesa della libertà di opinione di stampa nell'autunno del 43 che era stato decapitato dai nazisti dai fascisti con le deportazioni per diversi mesi tacque nella primavera del 44 Frausin riprende le fila riorganizza questa struttura contata i superstiti degli altri partiti ma ha un ruolo decisivo in un passaggio secondo il mio punto di vista nel dover designare il presidente del comitato ed è Luigi Frausin che identifica nella figura di Don Edoardo Marzari l'uomo che può essere il tradugnon non perché sia l'uomo neutro ma perché è un sacerdoto che si è speso nel campo della dottrina sociale e che lo sente molto vicino sia pur con posizioni chiamiamole ideologiche anche diverse ma un uomo che aveva avuto una forte esperienza sul territorio un contatto diretto con le classi proletarie quindi c'è questo rapporto strettissimo tra Frausin e Don Marzari ma che evidentemente forse deriva da quell'esperienza pregressa cioè quella che era stata sostanzialmente l'esperienza della cospirazione durante il fascismo del confino politico dei contatti con questa realtà molto composita è possiamo dire dispersa ma fino a un certo punto dell'antifascismo giuliano di Frausin si sa Lippari e poi Ventotene a Ventotene appunto un incontro con Currielle ma soprattutto quella Ventotene dove c'è anche un'altra figura importante sulla quale si stanno facendo delle indagini significative che è quella figura di Mario Mauvaz che poi diventerà grande e fraterno amico di Ernesto Rossi e col quale poi collaborerà anche per la stesura del manifesto di Ventotene quindi uomini illuminati Frausin certamente ha un ruolo decisivo nell'organizzare anche gli abboccamenti col Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia i convegni di Milano del giugno luglio del 44 nel tentativo di collegare a titolo definitivo questa marginalità del CLN triestino rispetto alla resistenza ufficiale del nord Italia e da questi abboccamenti questi incontri del giugno luglio erano sortite alcune decisioni significative importanti il CLN Alt'Italia si impegnava a finanziare la resistenza a Trieste si sarebbero dovuti costituire dei comitati paritetici misti italo-slavi cioè con sloveni e croati era più difficile collaborare in quel momento in Istria con le forze resistenziali croate era più facile trovare dei contatti con invece lo sbodin affronta sloveno che operava soprattutto tra Gorizia e Trieste rimane il grande problema il problema che tra il 22 e il 24 agosto del 1944 di rientro da una missione da Padova Frausin viene arrestato noi sappiamo che nella motivazione della medaglia d'oro si parla di una delazione slava questa fu la dignificazione che fu data nel dopoguerra per l'assegnazione appunto di questa importante il riconoscimento mai chiarito però questa delazione da parte iugoslava anche perché poi nel dopoguerra ci fu un processo in corte straordinaria di Assise questo va precisato nei riguardi di alcune figure che si erano macchiate di non solo collaborazionismo ma di delazione di delazione sul serio a favore dell'ispettorato speciale cioè della banda Collotti dal dibattimento processuale intorno al processo di intorno a tale Enzo Marsi Marsice emerse un fatto cioè che questo Marsice in epoca non sospetta cioè durante la guerra si era addirittura anche vantato di aver avuto un ruolo importante nell'arresto di Frausin la questione fu dibattuta e fu discussa in sede processuale però i giudici non riuscirono mai a individuare prove certe di questa vanteria da parte del Marsi rimase quindi un po' in ombra la questione se effettivamente lui avesse avuto in qualche misura un ruolo il senatore Paolo Sema aveva parlato appunto di un tradimento per opera di qualche elemento che faceva parte dei comandi della brigata Garibaldi Trieste passato poi diciamo per motivi mai chiariti nella schiera dei delatori a favore dell'ispettorato speciale altri parlano anche Gagliano Fogar accenna a questo aspetto rimase questa ombra un fatto però è certo che oggi col seno di poi farebbe quasi sorridere e che questa dirigenza comunista risultava possiamo dire praticamente un po' sproveduta nel senso che non assumevano la giusta attenzione e la giusta protezione della loro attività un po' troppo alla luce del sole non fidandosi o malfidandosi evidentemente strano per Luigi Frausino un comunista di lunghissimo percorso era un fuoriuscito era stato a Parigi era stato all'estero e questo è l'elemento che diceva ma come mai non prendono diciamo delle misure dei provvedimenti tali da coprire la propria attività cospirativa e organizzativa o si fidavano ciecamente della classe operaia oppure ma questa è la mia ipotesi che lascio così sospesa ci fosse un'inclinazione da parte di questi uomini che appartevano a una generazione precedente cioè che un po' come sotto l'Austria si poteva cospirare nella penombra questo fu un po' il limite del primo CLN tutti uomini che venivano dalla vecchia cospirazione antiasburgica ma cosa ci poterà succedere mai se ci prendono professore Roberto Spazzalli la fine che fece Luigi Frausin Frausin fu torturato bestialmente fu eliminato dalle SS questi sono elementi però molto incerti mentre per alcuni noi sappiamo che il destino fu sicuramente la deportazione nei campi di riconcentramento la scomparsa sicuramente di Frausin fu un colpo durissimo perché certamente le capacità organizzative erano notevoli e va da sé il fatto che poi ci furono delle sostituzioni ai vertici del partito in quel momento dopo Frausin ci fu la nomina provvisoria di Vincenzo Gigante ma durò pochissimo fu arrestato poco dopo poi ci fu il caso di Soglieri e fu anche lui arrestato poco dopo ecco allora come dire quasi sproveduti noi in un certo senso cadono nella rete nella trappola che viene finisce anche Gigante in risiera esatto quindi sono tutti personaggi che scompaiono certamente Frausin si era messo in luce per alcune posizioni piuttosto diciamo incisive c'è la discussione intorno ai destini di questo territorio c'è il grande problema del confine Frausin lo posponeva a un primo obiettivo c'è la sconfitta del nazifascismo non ammetteva sostanzialmente che si discutesse di confini di sovranità territoriale o statale su questo territorio con le bocce ancora in movimento con la guerra ancora in corso cosa che invece i vertici del partito comunista sloveno faceva capo quello jugoslavo o lo sbodino affronta invece ponevano come una sorta di postulato iniziale del tipo no prima dobbiamo stabilire quale sarà la futura sovranità e poi procederemo nell'azione professore Roberto Spazzali andiamo verso la fine di questo suo breve intervento perché la trasmissione è dedicata alla figura di Eugenio Curie il bel libro di Gianni Freso ma ecco lei che continuamente frequenta le scolaresche insegna fa lezioni eccetera quanto bisognerebbe parlare a questi giovani proprio di questo comitato di liberazione nazionale di Trieste il primo poi l'ultimo insomma e gente che si è veramente sacrificata ha sacrificato la vita per questi ideali sì certamente bisogna innanzitutto ricostruire queste biografie magari sulla base anche di elementi che possono sortire da ulteriori indagini anche su archivi privati perché ripeto le zone d'ombra rimangono questo è il primo elemento secondo far comprendere loro questo senso della negazione cioè come a un certo momento l'utilitarismo pratico l'egoismo ovvero il fatto di occuparsi del proprio orticello vada bene fino a un certo punto qualcuno si deve mettere anche in gioco e qualcuno come questi hanno messo in gioco la loro esistenza e la loro vita per un fine ultimo supremo alto o al di là delle posizioni poi ideologiche il caso di Frausing è emblematico perché l'uscita di scena di Frausing e dei suoi uomini più legati a lui comportarono poi l'allontanamento degli rappresentanti del partito comunista dal comitato di liberazione nazionale cioè il posto rimase vacante fino alla fine della guerra e questo è un caso unico in tutta Italia che il comitato di liberazione nazionale non abbia avuto nei momenti cruciali della fine del conflitto nella fase più acuta e più difficile anche il rappresentante di quel partito comunista che certamente fino alla presenza di Frausing all'interno del CLN ha avuto un ruolo decisivo importante questa è la specificità drammatica della nostra storia che è un'interno che è un'interno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie al professor Roberto Spazzali per averci illustrato maggiormente la figura di Luisi Frausin che andrebbe ancora studiata. Ricordiamo che Frausin nasce nel 1898 a Muggia e nel settembre del 1944 venne torturato e poi ucciso dai tedeschi. Rientriamo in studio nei due studi, quello di Cagliari e quello di Triesta. Cagliari Gianni Freso, autore di Eugenio Curri e Il lungo viaggio contro il fascismo. Odra Dekeditore, il libro al quale abbiamo dedicato questa puntata. Gianni Freso l'aveva interrotta mentre mi diceva delle frequentazioni di Curri e La Ventotene. C'è il fior fiore dell'antifascismo italiano, c'è tempo per discutere, per dibattere. L'utile che ne trae nella sua riflessione sull'antifascismo è Eugenio Curriel. La cosa importante è che Curriel nel confino raggiunge una unità organica oramai priva non solo di dubbi ma anche di elementi di incertezza. Parlo da un punto di vista della formazione filosofica e politica perché Curriel si mette a studiare nel confino. La cosa interessante è che Curriel arriva a dei punti di approfondimento e di elaborazione che hanno elementi di contiguità notevole con le analoghe elaborazioni fatte da Antonio Gramsci nel carcere, ma la particolarità è data dal fatto che ovviamente Curriel non poteva conoscere le riflessioni compiute qualche anno prima da Antonio Gramsci. Mi riferisco alla critica al determinismo marxista e quindi a un approccio meccanico e povero al materialismo storico, in particolare alle critiche a Bukharin, che contraddistinguono tanto le note di Gramsci quanto quelle di Curiel, ma mi riferisco anche alla particolarissima lettura che Curiel fa del risorgimento, così come la fa anche Antonio Gramsci. Quel che voglio dire è che Curiel in primo luogo analizza il risorgimento a partire da tre sue parole d'ordine fondamentali che lui intende riportare in vita ed erano appunto il tema dell'indipendenza, dell'unità e della libertà. In un contesto come quello del 43 possiamo immaginare bene come nessuno di queste tre fosse operativa, perché l'unità ovviamente era messa in discussione dalla presenza dei fascisti nel paese, la libertà era concultacata da vent'anni e l'indipendenza era ovviamente limitata dalla presenza dei tedeschi. Il punto fondamentale è che però per Curiel il risorgimento aveva rappresentato un momento importante nella storia d'Italia, ma così come Gramsci anche Curiel ritiene che il risorgimento avesse riguardato essenzialmente ristrette élite, e cioè che le grandi masse popolari fossero state escluse dal processo di formazione nazionale. Quindi la lotta di liberazione nazionale secondo Curiel sarebbe dovuto essere un secondo risorgimento nel quale si sarebbero dovute far irrompere le grandi masse popolari. Gramsci nei quaderni dice che l'unica maniera per far irrompere le grandi masse popolari nel risorgimento sarebbe stata la riforma agraria come fecero i Giacobini nella rivoluzione francese, ma nel risorgimento italiano non si volle questa irruzione e quindi il risorgimento si concluse come una rivoluzione senza rivoluzione. E in questo secondo Gramsci sta la contraddizione storica nel processo di formazione delle classi dirigenti italiane da cui si sviluppano quegli elementi che portano poi all'avvento del fascismo. Ed è la stessa conclusione che fa anche Curiel. Perché è importante tutto questo? Perché invece nello stesso campo antifascista un filosofo come Benedetto Croce interpreta al contrario il fascismo come una parentesi irrazionale nella storia d'Italia, ossia la storia d'Italia è contraddistinta dalla diffusione progressiva delle idee di libertà e di democrazia attraverso il liberalismo. E poi c'è questa parentesi che non si spiega bene, una malattia improvvisa in un corpo sano. Curiel arriva a una conclusione differente che è la stessa di Gramsci nel carcere, ossia il fascismo ha profonde radici nella storia d'Italia. E quindi per il dopo fascismo, se Benedetto Croce afferma l'esigenza di ritornare all'Italia prefascista, al vecchio statuto albertino, Curiel arriva alla conclusione invece che si debbano rimuovere le cause economico-sociali che avevano reso possibile l'avvento del fascismo. E questo era possibile soltanto attraverso una lotta popolare di liberazione nazionale e la costruzione di un quadro costituzionale democratico che consentissero ai lavoratori di conquistare progressivamente posizioni di forza nella società italiana. E questa è la base della teoria della democrazia progressiva fondamentale in Curiel in questi anni e in particolare poi tra le 43, 44 e 45. E questa è la base fondamentale dei primi tre articoli della Costituzione italiana. E con queste sue parole Gianni Fresi io sono costretta a chiudere perché il nostro tempo sta per scadere. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo presentato il suo libro, Eugenio Curiel, Il lungo viaggio contro il fascismo, Odradec Editore. Lo si può ordinare anche per via elettronica digitando solo il nome della casa editrice. Grazie quindi a Gianni Fresi. Gli auguriamo buona permanenza in Brasile dove insegnerà prossimamente. A questo punto Biancastella Zanini con i tecnici Gianpaolo Zucchi a Trieste e Paolo Consolidani ringrazia voi per l'ascolto. Noi ci lasciamo però con ancora una poesia, quella che il poeta Alfonso Gatto ha dedicato alla scomparsa di Eugenio Curiel, letta da Gualtiero Giorgini. A risentirci. In un giorno della vita ho camminato con Giorgio a capo scoperto nel cielo. Giorgio era un compagno. Giorgio era il partito maturo come un frutto. Giorgio era la sua voce, inceppata e sicura. Denti neri, tabacco nero, sigaretta arrotolata, un desiderio di svegliare il mondo coi suoi pensieri. Ho udito Giorgio. Ho visto Giorgio alto come le case nell'orizzonte del cielo. Come un grande studente usciva in fretta alle porte a insegnare la strada ai giovani compagni. Compagna, anche la morte, diceva. Il sangue è rosso. A maggio lo portammo al cimitero. Se potevamo camminare e coprirlo di fiori e di bandiere, era perché da morto ci indicava la grande strada della primavera. Lui che ci indicava la grande strada della primavera. A maggio lo portammo al cimitero. 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 A maggio lo portammo al cimitero.